Sarà al dirà però comunque degli episodi, comunque la sua squadra esce sì da due partite con due sconfitte però esce a testa alta con un'ottima prestazione e comunque in vista delle quattro finali che dicevamo comunque lascia ben sperare. Mi fa piacere se l'avete notato perché a noi adesso il risultato ormai non lo possiamo pensare più. Ripeto, abbiamo perso con una signora squadra e con un allenatore che gli ha dato un'identità la fa giocare bene, poi venire pure a Ischia a farti male. Siccome poi noi l'abbiamo penso combattuta questa partita, noi dobbiamo azzerare e dobbiamo prepararci per i playoff. Se siamo in grado e bravi a preparare queste battaglie, oggi è stata una partita che ti fa capire che i playoff sono a questi livelli qua e credo se poi non ci danniggiano sempre degli episodi ci possiamo far trovare punto. Ripeto, se avessimo perso in un modo proprio eclatante magari una bruttissima sconfitta su tutti i campi sia con intensità sia come gioco sia come fisico ci dovevamo preoccupare. Quindi questa partita ci deve far uscire per quello che dobbiamo fare penso con un po' di ottimismo. Queste sono partite importanti dove l'episodio, come abbiamo visto, può determinare addirittura una vittoria. Al di là del rigore, se c'era o non c'era, io sono rimasto proprio male della qualità della direzione di gara. Me ne prendo, mi assumo le responsabilità. Non è possibile, non è possibile. Tutte le nostre azioni ci faceva prendere ripartenze con falli clamorosi. Poi alla fine, ripeto, è peccato voglio vederlo perché le prime voci dicono che è un rigore inventato. E quindi, ripeto, venire a Ischia che dobbiamo fare i complimenti per tutto quello che sta facendo. Però sappiamo poi il Pompei, siamo entrati in ritardo, almeno dal mio, da quando sono arrivato io, stiamo cercando di fare bene. Si sa che devi rincorrere perché i davanti hanno sempre vinto. Ma oggi, ripeto, sono rammaricato perché venire a Ischia è comunque avere anche noi delle occasioni sprecate. Stavamo tenendo, credo, la partita comunque bene. Un episodio del genere ci ha cambiato partita e poi abbiamo visto fino alla fine come è andata. Ma al di là, a chi non si è potuto giocare più, non c'erano palloni. A me dispiace queste cose qua perché questa è una piazza importante. Il calcio è bello proprio perché bisogna giocarlo. Però queste cose, vabbè, possono anche succedere. Però troppe interruzioni, troppe cose. Però sicuramente l'Ischia ha fatto il plauso che dall'inizio dell'anno è prima in classifica. È giusto che si fanno i complimenti. Però io devo fare anche la mia squadra perché credo che sia venuta Ischia qua a fare una signora partita. E mi dispiace per i ragazzi che veramente me la volevo giocare fino alla fine senza questo episodio. Penso abbastanza dubbio. Però adesso ci rimbocchiamo le maniche. sapevamo che dobbiamo fare il nostro dovere pure attraverso i play-off perché credo che ci dobbiamo arrivare e ci dobbiamo arrivare bene e poi a fine anno tireremo le somme. Vabbè, ma si è combattuta, devo dire, senza, non perché c'era, non credo, qualcosa tra le due panchine, tra le due società. Troppo era una partita importante. Alla fine sì, perché alla fine se avete visto, a un certo punto l'albitro deve riprendere la partita e non c'è un pallone, nemmeno quello di gara. Io voglio dire che non ci stanno più palloni da mettere in gioco dalla panchina. Però a un certo punto è successo proprio nel finale che noi volevamo giocare, ma l'albitro non trovava il pallone. Perciò dico, a me dispiace perché comunque questa è una grande piazza, sicuramente può tornare anche nei professionisti, però questo è stato poi alla fine che ha fatto succedere un po'. Però alla fine non c'era niente tra di noi, anzi ci rispettiamo con l'allenatore o qualche dirigente. Il resto, ripeto, era l'importanza della partita che ti ha potuto portare a fare certe cose, però adesso è finita, pensiamo ad andare avanti. Radossalmente dal secondo posto che sembrava che potevamo vincere addirittura, perché quando prima dell'Alba 9 eravamo secondi e poi dovevamo venire a rischio, ci potevamo giocare tutto, adesso sappiamo che questa è la nostra posizione. Noi ci dobbiamo preparare per i play-off, al di là di giocare in casa, fuori casa, i play-off sono partiti a sé. Noi ci dobbiamo preparare per essere una squadra importante anche se dobbiamo andare fuori casa, dipende dalla posizione, non sempre in casa significa il doppio risultato. Quindi lavoriamo perché questa squadra fino a queste due battute d'arresto, penso che stava vincendo e convincendo, però sai, adesso veniamo da due sconfitte, ci prendiamo le nostre responsabilità e ripartiamo. Abbiamo perso con l'Alba 9 che oggi è il secondo, abbiamo perso con la prima in classifica. Credo, penso, se, poi non lo so, potessi che io ho visto un'altra partita, non abbiamo perso in un modo così straripante che puoi avere problemi. Io credo che abbiamo avuto pure delle grandissime occasioni per passare in vantaggio. Il calcio è anche episodio. Se avessimo fatto gol noi non lo so, con Lischia che sapeva che stava giocando con un punto di vantaggio solo dietro la seconda, perché loro erano pure abbastanza nervosi, penso. Io non ho visto giustamente una squadra tranquilla, perché sapevano che comunque se la stavano giocando duramente. Non era facile, dai. Poi, ripeto, un episodio del genere le ha fatti andare in vantaggio, nonostante poi ci siamo buttati in avanti mettendo anche qualche attaccante in più, credo che non abbiamo preso nemmeno una ripartenza micidiale che hanno potuto sfiorare un gol, a meno di quello che ho visto. Cercavano di ripartire, ma nemmeno è stato in pensiero del nostro partito. Quindi loro sapevano che oggi era dura, quindi noi dobbiamo uscire consapevoli che comunque siamo venuti sull'isola a non credere, a non farci mettere sotto, poi può darsi che io abbia visto un'altra partita però purtroppo i punti non li abbiamo fatti, però per me dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo detto, quindi è stato un episodio che poteva portarci in vantaggio, capisco il mister che si è arrabbiato l'avrei fatto pure io, perché il nostro centrocampista è arrivato a tu per tu e ha messo la palla fuori, non lo so però può succedere, quindi sono episodi, non va in vantaggio sullo 0-0, comunque stiamo giocando con l'ischia poteva trovare, però ripeto per come è arrivato l'episodio non l'ho visto, anzi mi fa piacere se già mi potete dare conferma se c'è questo rigore netto è giusto che sia così, se purtroppo non c'era rigore volevo giocarmi ripeto il mio giocatore ha detto mister che sono andato a saltare tenendomi il braccio, però se l'ha messo è giusto così.